Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Mr. Macintosh e come avrete già letto dal titolo questo è il video sul giveaway di un'applicazione molto speciale e di cui la settimana scorsa abbiamo fatto la review ed è iSky Soft iTube Studio per Mac quindi un'applicazione particolare molto carina e che troverete il link in descrizione della review quindi andatela a vedere questo giveaway è fatto per le 10.000 visualizzazioni quindi raggiunte superate e quindi è un premio come dire per ringraziarvi per il vostro aiuto in questo grande traguardo i metodi per partecipare al giveaway sono molto semplici ovvero dovete mettere un mi piace al video commentare il video con un partecipo o un commento qualsiasi basta che non sia volgare e ultimo passaggio ma non meno importante iscrivervi al canale di iSky Soft che troverete tutto in descrizione e queste sono le procedure per partecipare al giveaway il giveaway durerà precisamente due settimane quindi darà molto tempo e mi piacerebbe mi farebbe molto piacere se raggiungessimo gli otto partecipanti o anche di più e questa volta ci saranno cinque codici quindi cinque vincitori e niente quindi vi chiedo se gentilmente potete condividere più possibile il video su twitter facebook instagram non so come comunque condividetelo il più possibile spammate intasate internet con questo video e quindi questo è il giveaway le procedure per partecipare ve le ripeto velocemente sono un mi piace un commento e iscriversi al canale di iSky Soft io ringrazio nuovamente Becky per avermi fornito i codici e questo e i vincitori non riceveranno il messaggio privato da me i codici ma bensì verranno contattati dall'azienda che le invierà lei stessa quindi avrete codici ognuno suo più meglio più sicuro e quindi semplicemente e contatterò comunque i vincitori per chiedergli l'email da fornire all'industria io ringrazio tutti nuovamente questo è un breve video ma molto semplice quindi di nuovo un grazie noi ci vediamo sabato con un nuovo video sul download gratuito io sono Mr. Macintosh e alla prossima ragazzi